Il nostro pianeta è in continua evoluzione. La crosta terrestre e gli oceani si rimodellano senza sosta. Questo pensiero mi ha affascinato fin da ragazzo. E la passione per quello che le rocce possono raccontare non mi ha mai abbandonato. Nelle rocce possiamo leggere il passato della vita sulla Terra. E la lenta e continua trasformazione di ambienti e paesaggi. Possiamo rimanere incantati dai riflessi iridescenti di un cristallo. O dalla potenza di un vulcano in eruzione. Comprendere l'evoluzione del nostro pianeta è una condizione imprescindibile per uno sviluppo armonico e sostenibile della nostra società. In particolare in un paese così a rischio come il nostro. La conoscenza del territorio e dei rischi ai quali è soggetto, del suo sottosuolo e delle sue risorse, consente di difenderci meglio da questi pericoli e di sfruttare con coscienza e rispetto i doni che la natura ci offre. Lo studio degli equilibri che governano il pianeta può consentire agli scienziati della Terra di migliorare la qualità della nostra vita. GeoItalia, Federazione Italiana di Scienze della Terra, promuove la settimana del pianeta Terra. Dal 14 al 21 ottobre, 130 geo-eventi sparsi in tutta Italia vi faranno conoscere l'affascinante mondo delle geoscienze e il loro ruolo strategico per il nostro futuro. Grazie a tutti.